cari amici di mille un'avventura continuano i nostri tutorial sull'assembly del processore 6510 che equipaggia equipaggiava il commodore 64 abbiamo già realizzato 11 tutorial tutti di seguito e adesso ne aggiungiamo ancora uno perché ultimamente abbiamo visto l'istruzione usr del basic come funziona l'istruzione usr può accettare un argomento che è un numero floating point un numero in virgola mobile e restituire un numero in virgola mobile ma può anche accettare delle stringhe cioè dei testi e adesso vedremo come si può in qualche modo leggere mediante la funzione usr un programmino in linguaggio macchina la nostra stringa che passiamo come argomento ma andiamo subito a vedere come funziona nel nostro cbm prg studio ecco dicevamo appunto che la funzione usr vedete qui che abbiamo scritto x dollaro può anche accettare argomenti stringa non solo argomenti numerici che cosa succede però come fa il nostro programmino in linguaggio macchina e se non avete visto il video precedente che sarà consigliato qui da qualche parte andatevelo a vedere perché lì si capisce un po come funziona questa funzione del basic comunque se noi passiamo come argomento una stringa l'indirizzo del suo descrittore viene messo in due particolari locazioni di memoria in esa decimale 64 e 65 di pagina la stessa cosa se vi ricordate accadeva per gli argomento numerici venivano però messi in altre locazioni di memoria come specificato nel video e com'è un descrittore di una stringa ecco il descrittore di una stringa è così formato il primo byte di questo descrittore attenzione che nelle locazioni 64 e 65 si troverà l'indirizzo come al solito diviso in parte meno significativa e parte più significativa l'indirizzo del descrittore puntando a questo indirizzo in modo quindi indiretto noi non direttamente in queste locazioni puntando all'indirizzo contenuto in queste locazioni si troverà il descrittore della stringa che è costituito da tre byte nel primo byte si trova semplicemente la lunghezza della stringa immaginate che la stringa sia la parola byte ci saranno specificati quattro caratteri la lunghezza della stringa e quattro caratteri in questo caso cosa si trova poi nel secondo e nel terzo byte si trova di nuovo un indirizzo l'indirizzo del primo carattere della stringa e tutti gli altri seguono tutti gli altri 4 5 6 quelli che saranno seguiranno nel byte numero 2 del descrittore si trova il l'indirizzo il byte meno significativo dell'indirizzo nel byte 3 il byte più significativo dell'indirizzo quindi vedete quanti reindirizzamenti bisogna fare in questi casi qui troviamo in queste locazioni l'indirizzo del descrittore andando a vedere il descrittore al suo interno il descrittore contiene un nuovo indirizzo che ci darà il primo carattere della stringa del testo che vogliamo leggere è un po particolare come situazione ovviamente le stringhe sono memorizzate all'interno della memoria del basic del commodore 64 e vengono gestite in un modo particolare cioè spesso le stringhe vengono memorizzate si elaborano e quindi si memorizzano nuove stringhe quelle vecchie devono essere buttate via e c'è il garbage collector quello che raccoglie la spazzatura che recupera le locazioni di memoria che non sono più interessanti per il programma e questo lo dovremo fare poi vediamo subito il programma ad esempio anche per questa stringa qua quella puntata dalle locazioni 64 65 bisognerà a un certo punto nel nostro programmino in linguaggio macchina liberare la memoria occupata dalla stringa che abbiamo passato come argomento alla nostra funzione usr un po particolare come cosa comunque sempre nel caso abbiate delle domande qui sotto nei commenti potete chiedere di spiegare meglio qualcosa che abbiamo detto andiamo a vedere questa volta subito il programma in basic che fa questa cosa o meglio che va a leggere qualche informazione riguardo a questa stringa per vedere se davvero riusciamo a leggere questi argomenti particolari allora innanzitutto le prime due righe la riga 100 la riga 105 come vedete vanno semplicemente a memorizzare nelle locazioni 785 786 un indirizzo di memoria che è questo qui 49152 vedete che l'indirizzo di 49152 è costituito da due zeri che sono questo zero qui che vedete qua sopra e poi c zero c come sapete vuol dire 12 in esa decimale e visto che la parte diciamo questo c si trova nella parte più significativa del byte nel nibble più significativo va moltiplicato per 16 quindi abbiamo memorizzato in queste locazioni di memoria l'indirizzo 49152 dove partirà il nostro programma in linguaggio macchina e questo questi indirizzi sono proprio quelli utilizzati dalla funzione usr per capire quale programma in linguaggio macchina deve eseguire nella riga 110 invece leggiamo semplicemente una stringa che memorizziamo nella variabile v dollaro dopodiché questo v dollaro lo passiamo come argomento alla funzione usr che restituirà un risultato numerico questa r che però non ci interessa nel programmino di prova che facciamo questa questa volta quindi r diciamo non contiene nulla di interessante conterrà un numero a caso perché in effetti noi non lo elaboriamo invece che cosa facciamo andiamo a leggere la stringa v dollaro col nostro programmino in linguaggio macchina e nella locazione di memoria 253 andremo a memorizzare proprio la lunghezza della nostra stringa che chiaramente andremo a leggere vi ricordate proprio dal descrittore il descrittore nel primo byte contiene la lunghezza della stringa quel valore lo prendiamo dal descrittore e lo andremo direttamente a memorizzare nella locazione di memoria di pagina 0 253 invece nella locazione 252 andiamo a leggere il primo carattere della stringa e lo memorizziamo lì per vedere se davvero siamo riusciti a leggere dal descrittore a leggere le informazioni che riguardano questa stringa ovviamente potremmo fare cose molto più complicate magari in un futuro video lo faremo per esempio potreste immaginare di voler eseguire delle elaborazioni su questa stringa oppure la stringa tanto per fare un esempio che potremmo davvero fare la prossima volta potrebbe essere una stringa scritta così con un bel più in mezzo quindi una serie di caratteri che rappresentano dei numeri con un più in mezzo e potremmo fare la somma di questi numeri somma che potrebbe essere fatta su numeri lunghissimi come questi che normalmente il basic del c64 non calcolerebbe una particolare applicazione che potremmo realizzare sia in basic perché si può chiaramente fare questa cosa in basic ma noi siamo interessati all'assembly quindi per ora facciamo delle cose semplicissime leggiamo la lunghezza della stringa il primo carattere e li memorizziamo in particolari locazioni di memoria è ovvio che si può fare qualcosa di molto più complicato di questo ma è solo come sempre un esempio per capire e andiamo a vedere quindi il programmino in linguaggio macchina come sempre qui sotto in descrizione troverete il link per andarvi a scaricare il programma realizzato con cbmprg studio così potete provarlo voi stessi andiamo a vedere cosa fa come sempre partiamo dalla locazione di memoria 49152 è quella che abbiamo vi ricordate memorizzato in queste due locazioni di memoria col solito byte meno significativo e byte più significativo comunque partiamo da quella locazione la prima cosa che facciamo è inserire nel registro y il valore 0 perché così facendo andiamo vedete a recuperare caricando l'accumulatore vedete lda e con cosa lo carichiamo questo accumulatore con il valore che si trova vedete qui che ho scritto tra parentesi dollaro 64 ecco cos'è questo dollaro 64 è il byte meno significativo dell'indirizzo del descrittore della nostra stringa quella che abbiamo passato come argomento perciò scrivendo lda tra parentesi dollaro 64 virgola y con y uguale a 0 noi andiamo a leggere praticamente la lunghezza della stringa perché in quella posizione quell'indirizzo punta direttamente al descrittore e il primo byte del descrittore è la lunghezza contiene la lunghezza della stringa che abbiamo passato come argomento e vedete che questa lunghezza la andiamo a memorizzare nel byte fd di pagina 0 che è quello fd è 253 espresso in decimale quindi dollaro fd è vedete che se ci passiamo sopra con ecco ve lo dice anche cbmpr g studio non si vede comunque si vede che in decimale fd corrisponde a 253 abbiamo già letto la lunghezza della stringa che abbiamo passato come argomento senza fare nessun calcolo perché nel descrittore c'è proprio la lunghezza della stringa dopodiché con queste altre istruzioni qua andiamo a leggere l'indirizzo da cui parte veramente la stringa con le sue coi suoi caratteri se noi avremo scritto pippo l'indirizzo che andiamo a leggere con queste istruzioni punta direttamente alla p di pippo memorizzata nella memoria hip del nostro commodore 64 e cosa facciamo incrementiamo la y per andare a leggere il byte successivo dopo la lunghezza e andiamo a caricare l'accumulatore col valore che leggiamo in quel particolare indirizzo ci sarà l'indirizzo basso meno significativo della stringa e lo andiamo a memorizzare nella locazione fe aumentiamo di nuovo l'indice y facciamo la stessa cosa leggeremo il byte successivo abbiamo letto praticamente il descrittore il contenuto del descrittore andando a memorizzare la lunghezza della stringa in fd il byte meno significativo dell'indirizzo alla stringa in fe e in ff quello più significativo adesso però vogliamo leggere il primo carattere della stringa vedete che abbiamo messo l'indirizzo in fe ff letto dal dal descrittore e allora vedete cosa facciamo poniamo di nuovo y a 0 così non abbiamo questo indirizzamento con l'indicizzazione e vedete andiamo a leggere il valore che è puntato dalla locazione fe ff che contiene l'indirizzo del primo carattere della nostra stringa e memorizziamo l'accumulatore così letto nella locazione fc che corrisponde a 252 in decimale 252 in decimale vedete è il valore la memoria che andiamo a leggere con pic per vedere che cosa c'è memorizzato lì e troveremo il codice del primo carattere della nostra stringa ecco questo è un po complicato perché ci sono tutti questi indirizzamenti che sono appunto devo andare a leggere l'indirizzo devo usare poi questi indirizzamenti indiretti per riuscire a recuperare i valori da questi indirizzi e quindi è molto macchinoso facciamo un de indirizzamento due volte purtroppo non si può fare di meglio col con l'assembly ultime righe qua sotto per specificare dopo che abbiamo passato un argomento stringa alla nostra usr che il risultato è un numero floating point bisogna mettere a zero la locazione 0d però in effetti dato che poi non leggiamo questa locazione si fa solo perché altrimenti darebbe un errore il nostro programma e poi con questa istruzione jsr b6a6 andiamo a richiamare un programmino del kernel che libera la memoria dell'argomento che abbiamo passato alla nostra funzione usr se non lo facessimo quella memoria rimarrebbe bloccata e non più utilizzata da nulla perderemo della memoria e come si dice ci sarebbe un leak della memoria una perdita di memoria invece richiamando b6a6 in questo programmino va a prendere la nostra stringa che si trova in 64 65 e la marca come riutilizzabile dopodiché con rts torniamo al nostro programma basic allora come al solito che cosa facciamo andiamo a generare il caricatore di questo programmino in assembly lo copiamo come sempre nel nostro programmino in basic lo mettiamo qui in coda qui in fondo come al solito ci mettiamo un bel return e all'inizio andiamo a richiamare riga 10 il programmino che carica il linguaggio macchina che parte dalla linea 1000 e qui devo correggere che parte dalla linea 1000 bene allora all'inizio verrà caricato il nostro programmino in linguaggio macchina verrà eseguita quella serie di istruzioni in basic che vi ho specificato prima quando arriviamo all'istruzione usr verranno eseguiti quei comandi e troveremo la lunghezza della stringa nella locazione di memoria 253 e il codice del primo carattere in 252 andiamo a vedere se davvero funziona ecco vedete che il nostro programma ci chiede con l'input la stringa che memorizzeremo in v$ e poi passeremo alla funzione usr per esempio mettiamo 5a ecco vedete che la risposta è stata la lunghezza di questa stringa è di 5 caratteri e il primo carattere di questa stringa che è una a è a come codice 65 che è proprio il codice della lettera a se mettessimo per esempio spazio e poi 4a non ha funzionato perché gli spazi davanti alle stringhe non vengono considerati quindi vedete che lo spazio se l'è mangiato e quindi 4 caratteri è la nostra stringa e di nuovo la prima lettera è una lettera a proviamo a scrivere b poi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dovrebbero essere 10 caratteri vedete che ha scritto 10 caratteri e la prima il primo carattere è una b che come codice ha 66 e così vedete che il nostro programma ha funzionato il linguaggio macchina è andato a leggere la stringa che gli abbiamo passato andando a recuperare mediante il descrittore la sua lunghezza e anche il primo carattere ovviamente potevamo oltre al primo carattere leggere anche i caratteri successivi e fare qualche tipo di elaborazione per rendere questa cosa un pochino più utile può darsi quindi che prossimamente proveremo a fare quel programma che somma una stringa di due numeri con il più in mezzo e che darà un risultato e magari metteremo questo risultato direttamente in un floating point come la variabile r che viene restituita dalla nostra funzione facciamo ancora una prova proviamo a scrivere assembly e la lunghezza della parola assembly è 8 caratteri e il primo carattere è come sempre una A e se invece scriviamo commodore 64 sono 12 caratteri e il primo carattere è 67 la lettera C ecco questo era un po' particolare non ho fatto una lezione all'inizio ci siamo buttati subito nel realizzare il programma però diciamo chissà che succede se do direttamente un invio vediamo apparentemente se do direttamente un invio non viene memorizzato la stringa nulla rimane la vecchia stringa a disposizione comunque una cosa un po' particolare ho fatto questo esperimento sono rimasto perplesso mi aspettavo però evidentemente è da meditare questa cosa va bene ecco mi raccomando qui sotto in descrizione troverete il programmino pronto che potete scaricarvi il link al programmino se avete delle domande fatele qui sotto nei commenti come al solito e a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivedi in uno dei prossimi video ciao a tutti